Faccio mia l'hashtag di un amico che ringrazio, ciao Carlo, a Barlassina si cresce bene, in questa domenica di sole siamo in uno dei cinque parchi di Barlassina, siamo al tiro a segno, tutti i parchi in cui all'interno trovate giochi per i bambini ma anche modo di passeggiare per star sereni tra gli adulti, a Barlassina si cresce proprio bene.